Buongiorno! Buongiorno! Presidente, buongiorno! Maragò, introducendo ieri, ha detto che lui la 200esima medaglia la vuole prima che io me ne parlo. Allora, non puoi guardare qualcuno qui. Abbiamo il tiro con l'arco. Ecco, questo è il segno. La scherma, la scherma, la scherma. Dov'è la Rossella? La spada se è la prima. Eh, Rossella sta a fare allenamento. Mi auguro che stia facendo allenamento, sarebbe grave se lo stesso. Come va? Forma? Pronto? Sempre. Eccolo! 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 Grazie a tutti.